Clubhouse, se ne sta parlando ovunque praticamente, è un argomento importante, io l'ho scoperto qualche settimana fa, avevo letto delle notizie ma non ho approfondito, invece mi ha incuricito un sacco questa cosa che ora voglio mostrarvi. Davide è noto su connect.gt che scrive ad un certo punto clubhouse, social vocale, parliamone. Allora stiamo intervenendo, è intervenuto Rossella, è intervenuto Tommaso e io quando intervengono loro mi allerto e Davide aveva fatto un buon post, gli inviti eccetera eccetera e allora ho detto vabbè lo approfondisco, gli ho chiesto delle informazioni, è stato gentilissimo, sta condividendo Davide, tra l'altro è anche il primo ad essere iscritto alla classe ROAD tu 10.000 è stata appena aperta per chi vuole fare un percorso sui creator, vuole diventare, vuole portare il proprio canale YouTube a 10.000 iscritti è gratuito, vi metto il link in descrizione. Ne stiamo parlando, gli ho chiesto delle informazioni, questo social audio, poi sono andato a informarmi, a vedere un po' cosa ne pensano le persone, voglio fare un video su alcuni punti fermi dedicati al futuro e ai social network, perché si dice sempre è il social del futuro, cosa accadrà, ma c'è una delle cose che oramai non cambiano più ed è importante secondo me fissare questi punti perché fa tanta consapevolezza questa cosa. Mi è piaciuto anche il video di Marco Montemagno che vi consiglio di andare a guardare, che si chiama Tutti i pazzi per Clubhouse, vi metto anche questo il link in descrizione. Marco ha fatto una bella disamina sulla parte iniziale come iniziato, investimenti eccetera eccetera e poi ha fatto un parallelismo molto bello con Quora che concordo appieno perché questi ambienti ogni volta che nascono hanno sempre quella cosa di esclusività dove ci sono sempre persone molto importanti che parlano e quindi quando tu accedi ai contenuti siccome ci sono questi ti sembra wow che super contenuti, poi piano piano questa cosa scema come è stato su Quora. Come è sempre in tutti gli ambienti sociali, quindi questa cosa è importante, però vi voglio dire, me ne sono segnate qua, ho sei cose, sei cose importanti e poi vi parlo dei feedback di Fast Forward che vi ho detto nella puntata telegiornale e poi non vi ho più discusso, non ve l'ho più detto in quella puntata perché era diventata lunga. Allora il primo punto non è il social del futuro. Perché non è il social del futuro Clubhouse? Perché semplicemente non ci può essere più ad oggi nel 2021 un social, mi stavo confondendo con la data, un social che venga definito il social del futuro. In quanto non l'è stato mai nella storia. Quando è arrivato Instagram il social del futuro sarà un social delle immagini, poi l'abbiamo visto non è più un social delle immagini, ci sono video, ci sono i social dei video, ci sono tanti tipi di social. Che cos'è che sta avvenendo davvero a parte queste cose? Sta avvenendo che tutti i social network stanno andando a prendere le caratteristiche, non è che stanno andando a prendere perché è strategicamente pensato, perché siamo noi esseri umani fatti così. Noi preferiamo il campo visivo, il campo uditivo, il campo visivo e uditivo insieme e tante altre cose. Quando ci sarà la possibilità dell'olfatto tramite il computer vedrete che nascerà un social basato sull'olfatto. E' così, l'evoluzione segue l'essere umano ed è importante questa cosa. Quindi siccome in ambito audio è quello meno esplorato, solo esclusivamente audio da questo punto di vista, in tanti ci stanno investendo. I podcast sono diventati molto utilizzati anche in Italia, saranno ancora di crescita per i podcast, eccetera eccetera, ma quello dove tecnologicamente siamo meno evoluti è l'audio. Abbiamo avuto Discord che ha portato tante novità, abbiamo avuto ora le chat vocali di Telegram che sono comunque interessanti, sono una scopiazzatura un po' di quello che è Discord, ma effettivamente da un punto di vista audio non ci siamo. Clubhouse rappresenta una novità in quel tipo di particolare social e quindi sicuramente non sarà il social del futuro, ma dal mio punto di vista o un clubhouse o quello di Twitter o quello che verrà sicuramente avranno tanta visibilità, saranno frequentati perché noi, perché una parte degli esseri umani ha interesse in questa cosa, gli piace di più quel tipo di ambiente. Ci sono persone che gli piacciono altri tipi di ambienti, quindi è una questione di ambiente in base all'essere umano. Due, il tempo. Ci vuole tempo per gestire queste cose. Lo stiamo imparando perché non è più come dieci anni fa. Ogni ambiente sta diventando sempre più complesso. Prendete Twitch per esempio, che uno pensa sì, vai Twitch, che sono le live, e invece no, ci vuole molto tempo su Twitch per cercare di acquisire visibilità e per dedicare tempo a quella che è la piattaforma, l'ambiente sociale e tutte le cose tecniche. Quindi mettete in cantiere questa cosa. Non pensate che sia una cosa facile e veloce. Tre, la competenza. Come ci vuole tempo, ci vuole competenza. Questi ambienti richiedono una competenza e una propensione in quell'ambiente ad essere competenti in quelle cose. Non è che voi aprite una cosa audio e via. Bisogna saper parlare, bisogna saper intrattenere, bisogna saper dire cose interessanti. Lo stesso su Twitch, che richiede anche in più una competenza tecnica. Twitch è davvero molto, molto, molto difficile. Quindi, in sostanza, tempo e competenza sono delle cose che andranno sempre di più a influenzare quelle che sono le nostre attività. Quindi sta diventando fondamentale imparare a demandare o a lavorare in team. Perché se volete fare un progetto che è su più social, per esempio, incomincia a diventare complesso. Punto 4. La distribuzione dei contenuti. Sono sei i punti. La distribuzione dei contenuti è un aspetto che sta cambiando un po' come noi ci approcciamo ai social. Con Twitch, per la prima volta, si è visto, secondo me, un ambiente sociale che viene usato come punto di riferimento per produrre un contenuto e poi nelle sue varie forme distribuirlo. Attenzione, non è la cosa che si diceva in America. Prendi un contenuto e lo distribuisci qua a raffica a destra e sinistra, fai i micro contenuti. No, non sto parlando di micro contenuti. Sto parlando di una piattaforma, come Twitch, per esempio, e in questo c'entra anche Clubhouse, ora lo vediamo. È una piattaforma dove, in sostanza, tu crei un tuo programma di un'ora e mezza. E poi c'erano delle parti, per esempio, importanti che finiscono o sul podcast o su YouTube, eccetera, eccetera. Lo fa benissimo Rick Dufer, dove fa la sua cogitata e ha delle parti in più e in meno. Alcune sono distribuite su Spotify, altre sono su YouTube, eccetera, eccetera. E quando io ho fatto la cogitata con Rick, c'era l'audio, la chat audio con Discord e con gli abbonati. Questa cosa mi ha fatto pensare subito ora a Clubhouse, che potrebbe essere integrata. Clubhouse potrebbe diventare quindi anche un momento in cui tu, siccome ci vuole tempo, perché ci sono le stanze, vanno curate, devi avere una certa regolarità, devi avere l'impegno nel gestire gli appuntamenti, non è così facile. Potrebbe diventare una sorta di Twitch per la distribuzione dei contenuti audio, ovvero tu ti prepari il programma, ci stai un'ora e mezza, lo crei, eccetera, eccetera, e poi lo monti per farlo andare sui podcast. Se hai preso la webcam puoi andarlo a fare anche, per esempio, su YouTube, eccetera, eccetera. Questo sta cambiando tanto, cioè stanno nascendo degli ambienti sociali che hanno al loro interno degli strumenti che consentono di far diventare i contenuti che facciamo il punto centrale. Quindi Twitch, Twitch, Clubhouse, Clubhouse, ma poi da lì ci consentono risparmiando tempo di creare una struttura, una puntata, una quella che è, e poi cercare da quella puntata non di fare dettagli a cavolo, ma proprio già pensata prima, ben strutturata, per essere distribuita da più parti. Non è la distribuzione dei microcontenuti, non è estrapolare il minuto e mezzo per metterlo su TikTok, è totalmente un'altra roba, sto parlando totalmente di un'altra roba. Dopodiché abbiamo il concetto, che secondo me è importante, del The Brand, non lo so come chiamarlo, il fatto che gli ultimi social che sono diventati popolari, come per esempio TikTok, e poi tutto l'aspetto podcast, e ora Clubhouse, eccetera, eccetera, per quello che potrà diventare comunque, si tende sempre ad avere più una presenza personale che non di brand. Ci sono i brand, fanno dei buoni lavori con i podcast, eccetera, eccetera, ma è sempre di più l'aspetto umano che interessa, nella relazione umana, quindi questo è importante da tenere in considerazione, perché non tutti riescono a sfruttare un ambiente sociale. Gli ambienti sociali non fanno per tutti, ce lo siamo detti migliari di volte, non c'è bisogno che arrivi prima, c'è l'advertising, puoi recuperare, basta avere un buon progetto, eccetera, eccetera, ma la cosa importante è che, per esempio, un brand di lusso, andare su TikTok è complesso, è molto complesso, preferisce magari fare delle challenge, preferisce magari fare tante altre cose, così come su Clubhouse è molto più personale, gli audio sono molto più personali, quindi c'è questo aspetto da tenere in considerazione in tutti i progetti che fate. Ultima cosa, la proprietà. Siccome stanno lasciando tanti social, siccome stiamo facendo tanti progetti sui social, voglio ribadire un concetto molto importante, questi concetti valgono sempre da oggi in poi per i prossimi social che nasceranno, questi sei concetti che vi ho detto, il fatto che comunque sia non abbiamo la proprietà del contenuto, ed è fondamentale, ed è fondamentale, dovete incominciare a ragionare sotto questo punto di vista. Quindi se non avete un sito e non riuscite a farlo, e state facendo tante altre cose, per esempio usare delle piattaforme open come Substack, che è totalmente open, vi segnalo in descrizione anche il progetto open platform, segnalato da Gianluca Abadess, è diventato risorsa delle settimane qualche puntata fa di Fast Forward, che segnala le piattaforme totalmente open, ovvero che vi fanno esportare completamente tutti i dati, per esempio Medium non lo è. Quindi Substack potrebbe essere interessante. Le vostre proprietà. Non cercate di dare troppi contenuti ai social, se non avete anche voi una vostra proprietà. È un errore dal mio punto di vista, e tutto questo va strategicamente pianificato. Non potete essere presenti, sia come aziende che come professionisti, così a casa, la lascio in un social e l'apriamo. L'ultima è la settima, che credo che si colleghi un po' alla parte della competenza. Tenete in considerazione che siccome su questi ambienti sociali nascono delle persone che poi diventano famose in quegli ambienti sociali, prendiamo TikTok con TikToker, Twitch con i Twitch, tutta questa roba qui, non è che sono pianificate, è che sono persone che in quegli ambienti performano naturalmente. Questo è un aspetto importante. Quindi, un consiglio che voglio dare a tutti i brand, le aziende, i libri, i professionisti, è vero che potete fare consulenza, potete sfruttare i social, eccetera, eccetera, ma diventerà sempre più vero il fatto che è importante affiancare al proprio team persone che conoscono quegli ambienti. Faccio una cosa stupida, facciamo una considerazione banale, stupida, quello che volete, però avete un'agenzia di advertising, volete capire meglio TikTok, volete entrare su TikTok, assumete una persona giovane che lo usa davvero. Non è, sì, sembra una stupidata, sembra magari una banalità, non lo è per niente, ma non perché è giovane, perché su Clubhouse non ci saranno per forza giovani, no? Però è importante riuscire a capire gli ambienti sociali, altrimenti resterete sempre fuori da questa cosa. Così come su YouTube, che i consulenti di digital marketing di solito non ci capiscono un cavolo di come funziona YouTube, perché non sono dentro, e cercano di fare consulenza alle aziende, la fanno anche abbastanza bene, ma non sfruttano l'ambiente sociale, e quindi rimane tutto un archivio, rimane tutto un, faccio un video e lo promuovo tramite la dv, e non si sfrutta quella che è YouTube davvero. Quella che è YouTube davvero di solito non viene spiegata in nessun corso, ancora non l'ho visto, quindi spero col progetto Road 10.000 di riuscire a fare questa cosa. Detto questo, noi ci vediamo prossimo martedì con il TG, ah no, i feedback, i feedback, vi avevo parlato dei feedback. Allora, ve l'ho promesso, ma non perché voglio farlo. Ho chiesto, quando Fast Forward è cambiata, quando ho fatto la versione del telegiornale, ho chiesto il cambiamento, ho detto, voglio cambiare Fast Forward, così non mi piace. Ho fatto il TG, e ora sta piacendo a tutti, bellissimo, grandi feedback. Quando ho chiesto che voglio cambiare, molti erano spaventati da questa cosa. In tanti mi hanno lasciato vari feedback. e durante il telegiornale, io ho veramente tanti feedback e ho tante critiche. Ho la critica, ogni tanto sbaglio qualche scritta, va bene. Qualcuno mi ha detto del microfono, dice, il microfono c'è il gain troppo alto. Io, a secondo dell'ambiente sonoro in cui sto registrando, devo modificare il gain e mi dimentico di questa cosa, quindi faccio degli errori. E mi hanno criticato giustamente, ho cercato di studiare e sono riuscito, forse in questo video no, perché sto registrando in un altro ambiente sonoro, quindi mi risistemerò. Ho pure recitato MemDump, mi ha fatto una critica bellissima, mi ha detto, ottima scelta quella di non mettere uno sfondo in movimento, non perdere l'attenzione, eccetera, eccetera. Ti do due consigli soggettivissimi. Dice, il primo, secondo me devi diminuire la grandezza dei titoli, che scorrono in basso e l'immagine del tuo volto. Cioè mi sta dicendo, ok, è più importante concentrarsi sul contenuto che non su di te. Giustamente, hai ragione, io condivido. Perché era difficile leggere. Quindi ho fatto la seconda schermata del telegiornale, che forse passerò solo a quella, dove io sono molto più piccolo e la schermata è più grande e le scritte sono più piccole, quindi ho messo questa cosa. E poi mi ha detto, secondo me, l'onda arancione nel cerchio dell'audio, nel tuo cerchietto, è superfluo e distoglie l'attenzione, non serve veramente. E l'ho tolta e ha ragione. Qualcun altro mi ha detto, prima che, insomma, mi ha detto qualcosa sulla parte visiva, qualcosa sui movimenti, qualcosa su come dico le parole. Critiche, ormai sono tantissimi anni che io ricevo un sacco di critiche e mi fa un sacco piacere e infatti i feedback, le critiche, le chiedo io, io prima di ogni cosa. E ogni volta che mi arriva, la guardo e cerco di capire se è per me o no. La maggior parte di quelle che mi arrivano sono per me e io le applico subito. Forse, non lo so, in questi anni avete imparato a conoscermi, però, credo che tra tutto, tra il panorama che possiamo avere, sono sicuramente una di quelle persone che legge tanto e applica tanto. C'è una cosa che però voglio dirvi, tanto, insomma, siamo anche verso la fine del video, di solito, no? C'è una cosa che voglio dirvi. Allora, io sono pronto sempre ad accettare una critica e la chiedo, è importante però che chi critica, e questo non ve lo sto dicendo per me, cioè, non ve lo dico per me, a me non me ne frega niente, cioè, no, non è che non me ne frega niente, sono abituato, riesco a gestirla tranquillamente. E' importante che chi critica, anche se la persona, se state facendo la critica a qualcuno, dovete essere pronti ad accettare il fatto che la vostra critica sia sbagliata per la persona alla quale state facendo. Perché, siccome quella persona può essere aperta, come lo sono io, alle critiche, anche chi critica deve essere pronto ad accettare il fatto che la sua critica non è buona. Non è una cavolata. Non è una cavolata. Io ho avuto un solo commento di una persona che mi ha fatto una critica ora, non mi ricordo più qual è, è su Facebook. Un mese fa, due mesi fa, e dopo gli ho detto guarda, io non concordo per niente con quello che mi stai dicendo, non condivido. E lui mi ha scritto una cosa tipo, ah, non sei aperto alle critiche, dici di esserlo e poi non lo sei. Questa cosa è oggettivamente non è così. Ho cambiato così tante cose su Fast Forward che oggettivamente non è così. ma la cosa che mi ha lasciato overpress è proprio questa che chi critica non è pronto ad essere criticato. Pensate che è ossimoro impressionante questo. Pensate che è un grandissimo ossimoro. Quindi, nel momento in cui voi criticate dovete essere aperti a due cose. uno, ad essere criticati voi stessi, se no, non lasciate neanche un feedback, non fate niente. E due, dovete essere pronti al fatto che magari per voi oggettivamente è così, ma per la persona potrebbe non esserlo. Potrebbe non esserlo. Vi faccio un esempio pratico. Così ci chiariamo. Guardate. Feedback di Memdump, quello che vi dicevo prima. Infatti lui dice soggettivissimi, molto bravo, ce ne fossero, grazie di persone che comprendono queste cose. Per fortuna Fast Forward è pieno. Ma se tutta internet fosse così saremmo salvi. Mi dice inoltre, secondo me, l'onda arancione dell'audio dentro il cerchietto sulla tua faccia, della tua faccia, è superfluo. Ok, la critica da un punto di vista visivo è corretta perché quella cosa è superflua ed è davvero superflua quella cosa. Ma potrebbe non esserlo. Perché potrebbe servirmi un feedback visivo a me mentre registro su OBS che mi mostra il livello perché a volte grido e salto. Per esempio, è solo una delle tante cose che voglio portarvi come esempio di tante critiche che ho letto in giro non su di me. Molte cose su di me sono giuste e io le applico. Alcune no, non vanno bene, non vanno per niente bene per me e io lo dico. perché ci sono cose che a me soggettivamente per quello che è non mi interessa. Quindi questa è una cosa importante di critica, queste due aperture importanti, essere pronti a ricevere una critica alla critica ed essere pronti al fatto che oggettivamente per quella persona, soggettivamente per quella persona potrebbe non andare bene per miliardi di motivi che una persona non sa. Detto questo, ora sì, davvero, prossimo martedì. prossimo martedì.